Il progetto si chiama STEM Wars ed è sostenuto dall'associazione Ruotabile, un'associazione composta da alcuni ragazzi e persone adulte che sono affette da malattie rare e non curabili. Il progetto è finalizzato a consentire in Italia delle sperimentazioni scientifiche sull'uso delle cellule staminali. In particolare il progetto viene sostenuto in questo momento anche da Anostress, che è appunto un vino vegano che abbraccia perfettamente il progetto di terapie rigenerative sull'uomo. Dove è possibile acquistare queste bottiglie di vino? Le bottiglie di vino si possono acquistare anche attraverso me, che sono il referente dell'associazione Ruotabile, contattandomi personalmente e il progetto vede la vendita di circa 4.000 bottiglie. Una parte del costo andrà all'azienda produttrice del vino e un'altra parte sarà invece devoluta per intero all'associazione Ruotabile che sostiene il progetto STEM Wars. Andiamo in contatti dove possono rintracciare? Io sono facilmente contattabile presso il mio studio, anche al numero di cellulare, al 339 46 60 964, oppure inviando una mail a tizianabarone73.it.